benvenuti sul mio canale oggi parleremo un po di domotica e di un prodotto della merus in particolare delle mss 210 sono delle prese smart adesso vediamo un attimo la confezione sono compatibili come vedete sia con amazon alexa che con google assistant vediamo un po la scatola qua ci sono un po di caratteristiche un anno di garanzia andiamo ad aprire vediamo un attimo cosa c'è all'interno della confezione ecco qui allora un manuale in inglese vediamo un po se c'è anche in italiano spagnolo francese c'è anche in italiano ok con le specifiche sull'app adesso andremo a guardare come si configurano l'app in tedesco e poi eccole prese sono quattro in confezione ci sono quattro prese come vedete la classica asciugo però contiene dentro tutta la parte di smart per l'accensione queste prese vanno bene per accendere magari bajur lampade quant'altro per rendere domotica un po la nostra casa vediamo un attimo prendiamole tutte e quattro andiamo a vedere anche un po le specifiche sono effettivamente sono molto piccole ho già in casa altri prodotti della meros c'è una stessa cosa delle un'altra presa che si chiama ms s 310 che eccola qui eccola qui quindi vedete insomma rispetto alla nuova versione che si chiama mini appunto perché è molto più piccola le dimensioni sono molto più contenute cosa interessante è andare a vedere un attimo le specifiche più tecniche allora come vedete mettiamo un attimo a fuoco ok quindi a diciamo bene caratteristiche classiche di una presa ma come vedete a 10 ampere massimi ok quindi potete mettere insomma prodotti non ci potete collegare il frigorifero magari ecco perché non ce la farebbe andiamo a vedere adesso come si configura la presa utilizzando l'app ufficiale della meros quindi che va scaricata dall'app store da android eccetera una volta fatto l'accesso quindi ognuno di voi potrà quindi una volta fatto l'accesso quindi entrando con delle credenziali di registrazione la prima volta che si apre l'app come vedete vedete tutti i dispositivi che avete a disposizione in questo momento quindi qua ho vari prodotti della meros anche ci abbatte e quant'altro magari potremo fare un video più avanti su questi nuovi su queste altre tipologie e andiamo a cliccare in alto sul più che per selezionare il prodotto che vogliamo configurare vedete i prodotti meros sono veramente infiniti ci sono anche dei monstri le valvo insomma un po' tutto quello che ci interessa a noi in questo momento è la presa eccola qui la troviamo all'interno degli smart plug eccole qui la smart plug mini in questo caso e come vedete ci dice prima di tutto di collegarla quindi la prima cosa che da fare è collegare collegiamo la nostra ciabatta qui per comodità ecco qui la nostra ciabatta comincia a lampeggiare la nostra scusate la nostra presa comincia a lampeggiare in alto vedete il led che passa da giallo a verde e quindi andiamo sul prosegui come vedete ci chiede se sta lampeggiando e effettivamente sta lampeggiando quindi possiamo andare sul prosegui la prima cosa che fa il sistema va a creare una rete wifi dedicata quindi il dispositivo stesso contiene dentro una sorta di modulo wifi che ci va a creare una rete ad hoc quindi andiamo alle impostazioni wifi in questo dato nel nostro ipad troviamo la rete eccola qui la meros ci clicchiamo dentro collegato connesso fai click per tornare all'app in questo momento sta collegando gli diamo un nome a questa presa chiamiamola presa test ok puoi scegliere il nome che volete andate a inserire se volete un'icona per individuare all'interno della home page che abbiamo visto inizialmente quindi potete scegliere i vari prodotti potete anche volendo selezionare una vostra foto quindi potete fare una foto magari al lampadario o alla lampada in modo che la riconoscete in questa cosa magari mettiamo una lampada che andremo poi a collegare prosegui l'app chiede di connettersi al vostro wifi naturalmente dovete usare una wifi a 2,4 GHz quindi al limite potreste avere una rete come in questo caso una rete dedicata a tutta la domotica che non è uguale a quella della rete diciamo di navigazione andiamo su prosegui ok se si è sentito il click quindi diciamo sta configurando vedete che la presa continua a lampeggiare adesso il led è diventato verde come vedete sta completando adesso e congratulazioni fatto il dispositivo si è collegato in alto se vedete si è anche attivata la notifica di Alexa perché vuol dire che ha riconosciuto il dispositivo all'interno del mondo Alexa quindi fatto adesso troviamo la nostra presa all'interno della home page eccola qui quindi presa test quindi proviamo a fare un'accensione vedete qui c'è il led verde vedete il led si è spento si sentirà anche il click del relay ok andiamo a collegarci una lampada almeno vediamo anche il risultato tecnico ok proviamo ad accenderla presa test ecco qui come vedete si è accesa così è spento si è accesa proviamo anche a vedere se funziona con il mondo Alexa Alexa spegni presa test ok Alexa accendi presa test perfetto come vedete viene riconosciuta anche dal nostro assistente vocale normalmente poi avendo l'inserita all'interno del nostro diciamo del nostro mondo eco di Amazon poi la possiamo inserire nelle varie routine e quant'altro andiamo a vedere un po' anche internamente insomma le specifiche dell'app per quanto riguarda questa nuova presa come vedete appunto ci sono i nomi che gli abbiamo dato possiamo modificarlo quindi cliccando qui possiamo sempre modificarlo possiamo andare a cambiare se non ci piace più questo rimettiamo magari la presa classica ok se vogliamo metterci la presa invece che il disegno della lampada ok possiamo decidere se accendere o spegnere questo led adesso magari torniamo un attimo la lampada ok vedete qui c'è questo led verde appunto che è sempre attivo e che succede che magari può dareci fastidio durante la notte quindi anche se non è molto potente però noi possiamo decidere di disabilitarlo vedete quindi possiamo accendere o spegnere tramite l'app quindi in questo caso lo lasciamo acceso che ci dà un'idea qua dentro ci fa vedere il modello ci fa vedere il firmware il mac address eccetera normalmente viene anche aggiornato molto di frequente i prodotti Meros vengono aggiornati direttamente online per farlo bisogna andare sull'account e andare a vedere per esempio vedete ci sono degli aggiornamenti nuovi e come vedete ci sono degli aggiornamenti proprio per lo smart plug mini quindi essendo un prodotto nuovo però viene continuamente aggiornato quindi come bisogna fare basta cliccare qui su aggiorna e lui aggiorna il dispositivo magari ne facciamo una prova un'altra volta un'altra cosa importante questa presa non ha la possibilità di controllare diciamo i consumi cosa che invece può fare l'altro tipo di presa adesso magari la colleghiamo vi faccio vedere vi faccio vedere anche un po' le dimensioni la vedete non è più grande rispetto a questa anche messa vicino vedete aspettiamo che il led si blocchi eccolo qui adesso il led è attivo quindi possiamo accendere e spegnere il ventilatore come abbiamo collegato questo è stato un collegamento con il ventilatore possiamo quindi cliccando sulle caratteristiche come vedete in alto viene ci sarà il grafico appunto del consumo quindi il consumo è mensile giornaliero e quant'altro quindi ci dà la possibilità di vedere quali sono i consumi fatti per questo prodotto vedete c'è anche il grafico questo è quanto è stato acceso magari d'estate ok con i vari picchi e quant'altro quindi così abbiamo anche un consumo un controllo sul consumo ma questo lo può fare solo il prodotto più grande quindi l'MSS 310 invece il prodotto più piccolino il mini oltre ad avere un amperaggio minore non ha questa possibilità e se non vogliamo utilizzare l'app non vogliamo utilizzare l'assistente vocale e quant'altro possiamo farlo meccanicamente cliccando qui sul tastino quindi posso spegnere e accendere vedete che poi si accende anche sull'app e di positivo quindi posso anche diciamo avere un collegamento analogico al nostro prodotto quindi magari se uno si vuole accendere la lampada magari senza disturbare chi sta nella stanza quello può cliccare direttamente sul pulsantino ok allora conclusione come avete visto il prodotto è interessantissimo molto più piccolo rispetto ad altri che si trovano sulla rete anche della Meros stessa molto compatto utilità per chi vuole gestire la domotica nel modo più semplice massima diciamo perché non avete bisogno di fare modifiche sull'impianto elettrico prese e quant'altro ma utilizzando queste dispositivi addirittura ne avete quattro in confezione potete domotizzare un po' tutte le luci magari di una stanza quindi l'alba del bajour ma anche ecco altri altri piccoli elettronomestici con una spesa veramente bassa voi calcolate che una confezione di questa un multipack in questo caso sono quattro viene venduto su Amazon poi in caso mai vi lascio il link in descrizione più preciso ma intorno ai 40 euro quindi diciamo 10 euro a presa ma li trovate anche in offerta quindi adesso magari quando c'è anche l'Amazon Prime magari sicuramente lo trovate a di meno io lo ho pagato penso intorno ai 32 euro proprio perché c'era un'offerta su Amazon quindi si abbassa di tanto quindi stiamo intorno ai 8 euro 9 euro a presa che diciamo per quello che riuscite a fare con questo tipo di dispositivo è una spesa molto irrisoria quindi accettabile per divertirvi un po' quindi con la domotica cosa dire ancora un prodotto ottimo secondo me quindi ve lo consiglio e magari ne propiamo altri magari sul canale se volete fatemi sapere nei commenti se volete altri prodotti della Meros o di altri produttori sempre sulla parte domotica cosa fare di più niente quindi metteremi il famoso like se vi è piaciuto questo video vi potete iscrivervi al canale a meno avete altre informazioni questo diciamo è il nostro primo video su questo argomento su questo canale e quindi spero vi sia piaciuto e alla prossima un saluto da Stefano